Medici, infermieri, operatori della salute che quest'anno sul territorio, negli ospedali e nelle case di cura, nelle comunità terapeutiche e nelle RSA, hanno prestato il loro servizio accanto ai malati, agli anziani, a quanti avessero bisogno di vicinanza e assistenza. A tutti loro il Vescovo di Como, Monsignor Oscar Cantoni, ha voluto esprimere la riconoscenza per il lavoro svolto con passione e umanità e dare il proprio sostegno a quanti, in un momento così complesso e drammatico, sono sottoposti a un'ingente pressione, visto il perdurare anzi l'acutizzarsi, della pandemia in atto. Vorrei, scrive il capo della diocesi, che percepiste la gratitudine della nostra comunità cristiana che è attenta nel riconoscere il vostro impegno e la dedizione con cui vi applicate senza misura nei confronti dei numerosi pazienti da voi curati. Il messaggio di Cantoni è animato da affetto di fratello e di padre e vuole significare la piena comprensione per l'impegno fisico e psicologico a cui sono chiamati medici e infermieri, oltre le resistenze umane. Eppure voi, dice il Vescovo, state scrivendo una pagina splendida della vostra storia, laddove riuscite ad assistere i vari pazienti non solo dal punto di vista strettamente professionale, ciascuno secondo le proprie competenze, ma anche con una vicinanza affettiva nei confronti dei vostri malati, così da supplire almeno in parte quel calore umano che essi non possono ricevere dai loro parenti e di cui invece hanno enormemente bisogno. Una cura della persona nella sua totalità, non solo nel suo bisogno medico, ma anche nella dimensione spirituale. Così commuove la dedizione di quei medici e infermieri che in sostituzione dei cappellani impossibilitati a raggiungere i reparti covid, al di là dei loro compiti professionali, portano l'Eucaristia i loro pazienti, tracciano un segno di croce sulla fronte dei malati che lo desiderano. Voi, dice Cantoni, ricordando la Fratelli Tutti di Papa Francesco, potete sperimentare il valore della vita a partire dalla vostra professione, dentro la quale incontrate volti concreti da amare e stabilite relazioni vere, trovando nel servizio ai vostri pazienti un'occasione privilegiata che vi fa crescere e vi arricchisce umanamente. Il mio ringraziamento conclude e diventa nello stesso tempo un augurio, perché possiate incontrare in questo tempo che ci prepara al Natale l'incarnazione della presenza del Signore Gesù attraverso il servizio ai nostri fratelli sofferenti.